Il flusso continuo e costante di gente si ripete anche quest'anno al cimitero di Chieti in occasione delle ricorrenze della festività di Ogni Santi e della commemorazione dei defunti. Il Comune ha predisposto per il settimo anno un bus navetta per migliorare la mobilità in zona Sant'Anna e consentire soprattutto ad anziani con problemi di deambulazione addiversamente abili di poter far visita ai propri cari estinti nella vastissima area cimiteriale. Dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 17 le corse partono dal piazzale d'ingresso del cimitero nuovo vicino agli uffici che fino a martedì 2 novembre rimangono aperti per accogliere i visitatori e fornire informazioni. Alla guida del bus c'è Bruno Rutolo di Teate Servizi che gentilmente ci ha concesso il permesso di utilizzare il servizio e quindi poter realizzare le immagini che vi stiamo mostrando. Quest'anno per celebrare il centenario del milite ignoto il 2 novembre dopo la messa che sarà presieduta alle ore 10 dall'arcivescovo della diocesi di Chietivasto Bruno Forte al sacrario militare sarà inaugurata una lapide commemorativa intitolata al milite ignoto a cui verrà conferito il titolo di cittadino onorario di Chieti. Per quanto concerne la mobilità l'ordinanza del Comune in vigore fino al 2 novembre prevede il divieto di sosta con rimozione in via padre Alessandro Valignani. Divieto di sosta corrimozione nell'area antistante l'ingresso del cimitero che si affaccia su via Fieramosca e in tutta l'area antistante il cancello d'ingresso dell'ala nuova del cimitero e degli uffici cimiteriali ad eccezione dei soli stalli riservati ai diversamente abili. Il senso vietato in via Fieramosca, l'obbligo di svolta a sinistra verso strada per Villa Magna, il senso vietato in via Ferri, l'obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di via Ferri per i veicoli provenienti da via Rapino, il divieto di transito in via Albanese, il divieto di sosta con rimozione in via Ianni dove sono previsti due stalli di sosta provvisori riservati ai diversamente abili.